Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video analisi sui futuri campioni. Oggi andremo ad analizzare un altro calciatore che ha partecipato all'ultimo campionato di Primavera 1. Prima di iniziare però con l'analisi odierna volevo ricordarvi di lasciare mi piace al video, di iscrivervi al canale e se vi siete persi i scorsi episodi di questa serie vi ricordo che li potete trovare tutti raggruppati in un'unica playlist che si chiama appunto video analisi futuri campioni. Oggi parliamo di Antonio Cioffi. Antonio Cioffi è un classe 2002 e nel momento in cui stiamo registrando video ha 19 anni mentre alla fine dell'anno solare 2022 ne andrà a compiere 20. Gioca anche lui come nell'ultimo video, l'ultimo calciatore che abbiamo analizzato nell'ultimo video, gioca nella scuola di club del Napoli, è nato in Italia, è un giocatore alto 1,80 m e utilizza come piede principale il piede destro. Inoltre ha già avuto la possibilità di esordire con la prima scuola del Napoli, più precisamente esordito in Coppa Italia nella partita contro la Fiorentina. È un giocatore che può ricoprire diversi ruoli nella fase offensiva, il suo ruolo principale è quello dove viene utilizzato più spesso è quello di ala sinistra, ma in caso di emergenza, visto comunque anche la sua buona tecnica, può svolgere il ruolo di seconda punta o trequartista. Quindi è un giocatore come detto molto tecnico che è capace di saltarti l'uomo e quindi sicuramente può anche giocare un po' più centralmente della sua posizione, della posizione che lui ricopre maggiormente. Le sue statistiche in questo momento, nel momento in cui stiamo registrando il video, sono quelle di 29 partite realizzate in Primavera 1 condite da 5 reti e 4 cartellini gialli. In Coppa Italia Primavera invece ha realizzato una sola partita non segnando e non prendendo neanche cartellino giallo. La somiglianza che abbiamo deciso al giocatore con cui metterlo a confronto della prima squadra del Napoli, perché vi ricordo che quest'anno, come abbiamo sempre fatto dal primo episodio, abbiamo sempre messo a paragone un giovane della Primavera 1 con un calciatore che gioca nella prima squadra del club di appartenenza, quindi in questo caso il Napoli. Abbiamo deciso di dargli un paragone abbastanza pesante, soprattutto per i giocatori che indossano questa maglia, cioè abbiamo deciso di metterlo a confronto con Lorenzo Insignio. Questo perché entrambi giocano in quella zona del campo, entrambi sono giocatori capaci a saltarti l'uomo, entrambi sono giocatori tecnici. Sicuramente poi, come andremo a vedere, Cioffi ha una capacità in più rispetto a Lorenzo Insignio che quella del colpo di testa, perché anche le due altezze sono abbastanza differenti. Tornando al paragone, è un paragone che può essere pesante, sappiamo quanto Insigne sia importante, nonostante a fine stagione andrà via dal Napoli, per tutti i tifosi partenopei e molto spesso quando tanti giocatori alla primavera o anche di categorie inferiori mostrano alcune capacità. Molti tifosi pensano di avere già il nuovo Insigne in casa, quindi è un paragone pesante, è un paragone comunque che da una parte ti può mettere pressione, ma dall'altra ti può caricare, perché Insigne è un giocatore importante, un giocatore valido e sicuramente metterti a confronto da parte di osservatori esterni o più semplicemente da tifosi, con un giocatore di questa caratura ti può dare anche degli stimoli positivi che sicuramente ti possono poi portare a fare una carriera importante. I pregi che abbiamo deciso di assegnare al giovane calciatore Antonio Cioffi sono quelli del colpo di testa e del tiro. Colpo di testa, come accennato prima, come poi andrete a vedere dalle clip che abbiamo preparato per voi su questi due pregi, è un giocatore che è alto, nonostante questa altezza comunque ha una buona velocità, è molto bravo tecnicamente e quindi ha questa capacità, magari anche con i cross da esterno a esterno, ti riesce a mettere in difficoltà, come potrete vedere dalla clip. E' un altro grosso pregio che lo accomuna tanto con Lorenzo Insigne è quello del tiro, perché sono entrambi i giocatori molto molto con un buon tiro, con un tiro di precisione che può essere anche alternato a tiri di potenza, quindi sicuramente questa caratteristica è molto molto comune. Detto questo, io ora vi lascio alle clip che andranno ad esaltare i vari pregi che abbiamo preparato per voi del giovane calciatore Antonio Cioffi. Qui si gira molto bene, guadagna campo d'Agostino a destra, serve di Dona che può andare al traversone, bello il cross, colpo di testa, traversa palo, poi golla! Eccolo, Ambrosino, 2-1, torna avanti il Napoli all'ora di gioco! Quinto centro stagionale per Ambrosino che credo verrà ammonito. Colpo di testa di Cioffi, abbastanza sfortunato, ha colpito traversa e palo! L'attaccante del Napoli, poi il pallone è arrivato sui piedi di... ...del centrocampista del Lecce. Al sessantaduesimo risponde il Napoli con una grande giocata di Cioffi che va al tiro di destro dalla distanza. Borbei si supera e spedisce il pallone in calcio d'anno. Ora che avete visto le clip che andavano a esaltare i vari pregi del giovane calciatore, andiamo a parlare del difetto principale che abbiamo trovato in lui, che è quello della fase difensiva. Perché in un calcio che avanzi, in un calcio sempre più propenso a 11 giocatori che scendono in campo che devono saper far tutto, quindi i difensori molto spesso sono i primi attaccanti e viceversa. La fase difensiva per i giocatori, soprattutto di movimento, quindi magari non per una punta un po' più statica, ma per esterni, trequartisti, come in questo caso diventa un requisito sempre più richiesto dai vari allenatori e conseguentemente anche per cercare di continuare al meglio la propria carriera. Questo, a differenza di altri difetti che abbiamo sempre elencato in altri video, si può migliorare solo trovando continuità e questa continuità è difficile che soprattutto i giovani del nostro campionato di primavera 1 la trovino nelle squadre maggiori che giocano in Serie A. Quindi molto probabilmente Cioffi la prossima stagione andrà a giocare in campionati inferiori rispetto al campionato di Serie A, ma superiori sicuramente rispetto al campionato di primavera 1, per cercare di trovare una continuità che possa fargli migliorare questo aspetto. Noi come sempre vi salutiamo, auguriamo al giovane calciatore il migliore prosieguo della carriera calcistica e non solo. Noi ci rivediamo con un prossimo video qua sul canale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!